bella lì grandissimi continuiamo l'avventura shadow wario 3 bella lì grandissimi continuiamo l'avventura shadow wario 3 bella lì raga allora seconda parte di video vorrei riuscire a portarlo tutto vediamo se riusciamo perché comunque a livello proprio gioco divertimento mi piace mi piace mi piace gioco divertimento mi piace adesso vediamo qua un attimo allora grazie a erio che ci fai un bordello qui dovevo segui assi qui dovevo seguire lui allora qui avevo preso l'arma esattamente e avevo chiuso la prima parte oh va e vai non c'è nessuna no nessun potenziamento bello oh mio dio no eh beh che pareva oh questa chi è lady esatto ok oh 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 ragazzi sto muerendo dai porca vai bam perfetto grande ecco ok ok oh non è finito ok ok Grazie a tutti. Oh. Porca. Sono ritornati tutti. Oh. 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 oooohh noooohh oh madonna sono riuscito a mattarlo queste cose sono terribili terribili ma devo fare qualcosa ok 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 Upgrade Upgrade Ah ok Anche qua Quanti soldi ho? Ok Ok Ha visto tre posti Il bello che ha due Due ne ha ancora Sì, rigenerazione Perfetto Qui c'è qualcuno Mogura Quiz Ahi Ah, sono strontoni Che stanno sopra Ma che li stacca il coso Lì che gira No, dai Come un calamaro Poi è quell'altro Che buio Che buio Decapitate! FIRE IN THE HOLE! And you're the hole, by the way! Fire in the hole! And you're the hole, by the way! If I don't get that, Raccoon, I'm gonna put my foot so far up Scylla's ass, he'll be tasting cold! Non era propriamente un boss! Questo è un albero! What the hell's going on there? Stop! Stop! Motoko will consume the energy stored in Hoji's mask and use it against the dragon. Where the hell am I? What the hell happened to my body? Hoji? It hurts! Something is ripping me apart! Scylla! That's Hoji! He's alive! It's too late now, Lo Wei! Even the slightest disturbance will break the spell, spoiling whatever chance we have to take that dragon down! You knew this could happen! Has this always been your plan? If you want to be a hero, Lo Wang, you need to make sacrifices! Fuck you! I'm not gonna let you kill my friend! Lo Wang, wait! You've doomed us all! I know! Those sweaty hands! It's Lo Wang! It's Lo Wang! Not now, bro! Was that Zilla? What the hell did they do to me? What did they want? What did they do to me? You're fucked up! They're all fucked up! I know! What did you do to me? What did they do to me? What did they do to me? What did they do to me? They're all fucked up! Uuuuh 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 Questo qua chi è? Se King Shokera Uno nuovo Uno nuovo Volano Quelli che volano No Beccalo beccalo Bah Ah Bellissimo Porca Mi sono ammazzato ma non per Oh 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 Hmm Interessante Interessante Di qua Di qua No non credo che era di qua Ahahah Qui qui si Questa si Questa si Andiamo su Oh 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 C'è un uomo che non c'è una concienza che mette una buona carriera. Beh, certo Non capire nulla quando parli Mi ha chiuso dentro Ah, non dovrebbe essere Ci collezionavi in questo gioco Però Ogni tanto ci guardo dietro È un po' Improbabile No, no, no Ho fatto una cosa un po' strana Anche qua credo di aver fatto una cosa un po' strana Sinceramente Infatti bastava guardare un po' più in avanti Tanta fortunella No, no, no Grande È un po' strana wow cose incredibili di fare sto tipo cacchio distrugge sempre tutto comunque raga tutto distrugge sì, sì, sì caspita no dai che ci sono giù ah ah no il basi Con gli acchi li facciamo stare. 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 Allora Chi manca? Due palloncini Ma chi manca? Credo basta Sì Ve ne va al tre Oh Che cacchio Oh Che cacchio No Cacchio No Cacchio 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 Cos'è che mi dice? No E no Non ha ammazzato tutti E mi ha bloccato No A volte succede in questi giochi Reload da checkpoint Per forza si è bloccato Lì doveva aprire la porta Credo Adesso vediamo se si sblocca E checkpoint Credo che è il pezzo prima Quindi questo qua me lo devo rifare Questo qua Delle fisarmoniche Credo eh Credo Allora caricare è un po' lunghetto Ecco Ero 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 1, 2, 3, 4 barrile di morte! 1, 2, 3, 5 barrile di morte! Siamo iniziando a sforzare un po' Siamo iniziando a sforzare un po' Sapevo io che dovevo aprire il portone Andava... Perfetto 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 Ok Climb 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 Clammiamo Clammiamo E niente dai Seguitemi anche su social Youtube Twitch Facebook Instagram TikTok Twitter E Discord Alla prossima con Shadow Warrior 3 Ci vediamo Marco Drano's Game Channel Ciao a tutti Seguite i millini di video Che ci sono Sul mio canale Ciao a tutti ragazzi Ciao Alla prossima Da Marco Drano's Game Channel E' tutto Mitici